Un saluto a tutti i Fanta allenatori di SOS Fanta Ciao ragazzi di SOS Fanta Un saluto ai Fanta allenatori di SOS Fanta Un saluto a SOS Fanta e chi ha avuto la brillante idea di prendermi al Fanta Calcio Un saluto agli amici di SOS Fanta e un ringraziamento particolare ai Fanta allenatori Un saluto a tutti i Fanta allenatori di SOS Fanta Un saluto a tutti gli allenatori di SOS Fanta Ciao ciao Grazie Probabili formazioni, consigli e voti Ovviamente la guida all'asta, scaricate l'app di SOS Fanta e grazie Un saluto grande agli amici di SOS Fanta Fondamentali durante il percorso del Fanta Calcio durante l'anno Perché consiglio a lui non va ancora niente perché è arrivato ultimo a sto bidone Quindi grazie mille ragazzi